Allora, oggi c'è stata in Federcalcio la riunione tra il presidente della federazione che secondo me non si è dimesso, ma lunedì ci sarà un altro consiglio federale, Tavecchio. Tavecchio tu ti devi dimettere, caro presidente, perché tu, la colpa di aver scelto Mr. Sventura, non si chiama Ventura, ma Sventura, sei stato tu che l'hai scelto, tu l'hai voluto e quindi la colpa è solamente la tua per una disfatta. Sono 60 anni che non andavamo in Mondiale, l'avete fatto vergognare tutti, tutti quanti all'Italia, ok? E tutti i senatori se ne sono andati, anche Chiellini se ne è andato. Questo perché? Perché Ventura non ha avuto anzi, non ha l'esperienza per allenare un club, una nazionale. L'ho sempre detto, Ventura, Ventura, cosa ha allenato? Il Torino, il Bari, cioè in Europa lì, non ha avuto quell'esperienza giusta, ma secondo me anche i giocatori, per quello che ho visto, gli hanno dato anche contro a lui, perché lui dopo la partita della Spagna non ha capito più la brocca. E voi che cosa avete fatto? Voi che cosa avete fatto? Convinti che l'Italia passasse il Mondiale? Gli avete rinnovato il contratto fino al 2020, fino al 2020. Adesso cosa è successo oggi? Che lui, lui, lunedì sera non si è voluto dimettere. Gravissima cosa, perché lui domenica, lunedì si doveva dimettere subito, subito dopo la partita, lui si doveva dimettere e non si è dimesso. Tu da vecchio non ti sei dimesso e ti devi dimettere? Vi dovete dimettere tutti quanti, perché l'Italia calcistica ha fatto schifo, tutte le squadre, abbiamo fatto una vergogna, ma vi rendete conto? Gente che prende un sacco di soldi e non si qualifica, eppure li vanno a vedere noi, i scemi, li vanno a vedere allo stadio. C'è gente che non può mangiare, voi fate queste figuracce così, ma vi rendete conto della vergogna che avete fatto? Gli avete rinnovato il contratto? Solo in Italia vanno queste cose, ma vi rendete così che fanno i contratti lunghi, sapendo che poi le cose non vanno, non vanno bene o vanno male. Non si fa così, da vecchio. Il contratto si doveva lasciare fino al 2018, adesso cosa è successo? C'è stata questa riunione oggi, da vecchio lo ha esonerato, bella figura, bella. Quello si doveva dimettere, anzi l'avete esonerato, e continuerete a pagarlo, perché lui voleva 700.000 euro di buona uscita, anzi, vi dirò di più. È stato trovato un accordo con la Federcalcio, lo pagheranno mensilmente, 800.000 euro al mese, finché ventura, sventura, non troverà una squadra. Secondo me dopo questi mondiali, lui squadre difficilmente ne troverà. Comunque lui mangerà, mangerà per questi due anni, alle spese nostre, e noi facciamo fatica ad andare avanti. Vergognosi, siete stati veramente vergognosi. In Svezia avete giocato male, in Italia avete giocato, ma non avete trovato il gol. Quei calci d'angolo, che cosa servivano? Che sono tutti 1,80 m alti. Andriva pure tu con quei cross lì. Non siete stati capaci in 180 minuti di fare un gol alla Svezia. Vergognatevi, vergognatevi. Vi dovete vergognare. Adesso cosa dobbiamo fare se state noi? Che dobbiamo tutti fare? Andiamo al bar e ci ubriachiamo, così almeno non pensiamo alle vostre minchiate che avete fatto fino adesso. Vergognatevi. Come si fa? Adesso, sembra che Maldini possa entrare nell'organico, almeno uno. Ma io dico, c'era pure Albertini che avevano fatto, c'erano le elezioni. Tavecchi è diventato presidente, ma c'era pure Albertini. Fate tornare Albertini come presidente. Ci vogliono i giovani. Qua ci vuole rifondata sta nazionale. Ma voi dovete guardare anche nei settori giovanili. Guardate un po' i settori giovanili. Guardate l'Inter, che ha vinto quasi tutti i campionati. Guardate il Milan. Guardate la Juve. Cosa fanno in Inghilterra, in Barcellona? Nel Barcellona. Hanno i vivai. È di là che escono i campioni. Non escono dai vecchi campioni. Escono dai vivai questi campioni. Escono da lì, dalle cantere, di là. Perché la Spagna fattura di più. Perché in Spagna si fanno i contratti più lunghi. Perché lì il calcio è migliore. Perché il nostro fa schifo. Perché non avete fatto giocare Gabbiadini che non ha giocato niente. Giorgini ha fatto una buona partita. Ma Insigne, De Rossi, perché non l'avete messi dall'inizio? Perché Ventura? Perché non l'hai messi dall'inizio? Lo vedi che sei anche tu un mezzo competente di niente. E poi chiede scusa. Ma che scusa chiedi? Ma che scusa fai? Guardate un po' le nazionali. i giovanili. E prendete questo cacchio di giovani. Qua va rifondato e partiamo dai giovani. Vedete Bernardeschi? 40 milioni. Andate alla Juve. Non gioca. Non gioca. E questi giovani come possono trovare spazio? Come possono trovare spazio questi giovani qua? Comunque, pare che il prescerto per la panchina sia Ancelotti. Vedremo se lui è eccetera questo compito di costruire tutta la nazionale. Di partire innanzitutto da una base, da un programma e dall'europeo del 2020. C'è anche il nome di Mancini, di Allegri, però quello più papabile potrebbe essere Ancelotti. Prendiamolo subito, che lui ha esperienza e vinciamo questi europei.